Il 19 gennaio 1986 nasce a Torino Claudio Marchisio, considerato uno dei centrocampisti più forti nel panorama nazionale e internazionale, dopo una lunga trafile in under 21, esordisce tra i grandi a 23 anni, in occasione dell'amichevole Svizzera-Italia del 12 agosto 2009. In panchina siede Marcello Lippi, che lo porta con sé nella sfortunata spedizione dei mondiali del 2010 in Sudafrica, dove Marchisio disputa da titolare le prime due gare del girone con Paraguay e Nuova Zelanda. Realizza il suo primo gol in nazionale il 7 ottobre 2011, nella partita Serbia-Italia disputata a Belgrado e valevole per le qualificazioni all'Europeo del 2012 in Polonia-Ucraina, manifestazione alla quale partecipa da protagonista. Sotto la guida tecnica di Cesare Prandelli, il centrocampista azzurro è infatti uno dei principali interpreti dello splendido cammino che porta l'Italia sino alla finalissima di Kiev, persa nettamente contro la Spagna. Insieme ad Andrea Pirlo e a Gianluigi Buffon, non è mai stato sostituito e non è mai subentrato dalla panchina. Partecipa anche alla Confederation Cup del 2013 in Brasile, servendo l'assist per il gol di Jovinco, nello spettacolare 4-3 rifilato al Giappone. Grazie. Grazie. Grazie.